Il Partito Lunare è proprio per questo motivo che ritengo che ci sia una proporzione enorme tra la reazione del Partito Democratico e quello che è effettivamente accaduto al Senato. Perché, come si diceva prima, lì intanto c'è una responsabilità che è in capo innanzitutto al partito di maggioranza, cioè non aver deciso la sostituzione della Presidente e della Commissione e questo naturalmente perché non si è trovato un accordo interno per quattro mesi. E poi c'è una gravissima sgrammaticatura istituzionale e politica, cioè quella di aver investito persino il Presidente del Consiglio e si è cercato di informare il Capo dello Stato di una vicenda, di una discussione che ha una dinamica assolutamente parlamentare, che attiene alla sfera dell'autonomia del Parlamento, in quel caso del Senato. Io penso che questo sia un atto di grave irresponsabilità perché sa molto di quel tratto di avventurismo che sta caratterizzando e che caratterizza questa stagione politica, in particolare chi ha oggi la responsabilità di guidare della direzione politica del Partito Democratico. Si sono ventilati ipotesi di crisi istituzionali e politiche in ragione di una vicenda che invece ha una dimensione di tutt'altro genere. Io penso che si debba tornare alla ragione. Si proceda con la legge elettorale. Guarda, io non ho votato l'Italicum, non solo perché presentava evidenti aspetti di incostituzionalità, ma perché su quella legge è stata posta, che è intimamente, naturalmente parlamentare, la questione di fiducia e questo è stato un atto grave. Adesso chi aveva fatto la legge più bella del mondo, come l'aveva definita, ha la responsabilità di fare una proposta vera, una proposta che abbia le gambe per correre. Perché se si utilizza il mattarellum, su cui io sono assolutamente d'accordo, ma se lo si utilizza come cortina fumogena, in realtà per non cambiare la legge elettorale, per consegnare al Paese la legge elettorale partorita dalla consulta, mi sembra un giochino a cui noi personalmente vogliamo sottrarci. Quindi si proceda sulla legge elettorale rispetto alla quale noi diciamo chiamatela come volete, metteteci il vestito che volete, i capi saldi per noi sono sostanzialmente tre, via i capi lista bloccati, un equilibrio tra rappresentanza e governabilità e un'armonizzazione, come suggerisce anche il capo dello Stato, della legge elettorale tra le due Camere, tra Camera e Senato. Su questi capi saldi si costruisca la legge elettorale più adeguata.